Siamo a novembre inoltrato, quindi come tradizione i metati sono pieni di castagne. Si procede all'essiccazione e alla fumicatura dei frutti che ormai secchi sono quasi pronti per essere battuti e poi lavorati. Nella nostra provincia si susseguono le iniziative dedicate al frutto autunnale per eccellenza. Domenica scorsa è stata la volta di Lupinaia, la frazione più in quota del comune di Fosciandola. Anche quest'anno, grazie a un efficiente servizio navetta gratuito che permette di raggiungere il paese, sono stati in tantissimi coloro che hanno deciso di passare la giornata tra storia, tradizione e ovviamente gastronomia. Oltre alle caldarroste, i necci e anche alla possibilità di un menù tematico servito nella piazza d'ingresso del paese, abbiamo trovato un piatto molto antico che raramente vediamo servito in queste occasioni. Parliamo delle borghe che nella forma dialettale prendono il nome di tullore. Ecco le fasi di preparazione. Acqua, castagne secche, foglie di alloro, come si vede, poi scorse di solito ci mettiamo di arancia oppure di mandarino per dargli un po' di... e poi tra le quattro ore vanno bollite e stop, dopo non c'è altro che da mangiarli. Questo piatto nel passato veniva preparato molto spesso nelle abitazioni. Qualcuno metteva il latte anche nella fase di cottura, altri, come abbiamo visto, lo preferiscono messo a crudo nel piatto. La particolarità di questa portata è legata al fatto che durante la bollitura le castagne rilasciano delle sostanze creando così una sorta di crema che caratterizza il sapore e l'aspetto di questo piatto. Ovviamente la manifestazione organizzata dal locale gruppo sociale si è arricchita anche di iniziative commerciali e culturali come visite organizzate ai metati vicino all'antico borgo per far capire tutte le fasi della lavorazione della castagna.